Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti a Occhio ai giornali. Tutte le mattine qui, dalle 7 in poi, siamo per mostrarvi da lundì a sabato le prime pagine, i giornali dei quotidiani che come avete visto questa settimana hanno avuto praticamente quasi un mono argomento, ovvero sia appunto il coronavirus e tutti i suoi sviluppi e anche oggi non è diversamente da così, a parte qualche notizia di cronaca. E quindi presto sfoglieremo i giornali, il resto del Carlino e Corriere Adriatico che hanno appunto una notizia in comune, ovvero sia che la Presidente dell'ente carnevalesca è risultata positiva al coronavirus nel tampone che ha effettuato questa settimana. Questa è la notizia riportata nelle prime pagine, nelle edizioni locali di cui vi abbiamo dato anche notizie ieri nel nostro telegiornale, anzi abbiamo sentito proprio dalla viva voce della Presidente il suo stato di salute e anche il suo umore su come sta affrontando questa cosa. E' notizia anche che Renato Claudio Minardi, il Vice Presidente del Consiglio regionale delle Marche è in quarantena volontaria proprio per essere entrato per un breve tempo, un breve lasso di tempo in contatto con una persona poi risultata positiva. Quindi questa forma di precauzione consigliata e prescritta proprio dal decreto di rispettare questa metodica si sta applicando anche in maniera un po' più diffusa perché proprio quello che è lo scopo è di limitare il contagio che avviene attraverso appunto i contatti interpersonali. Quindi questo virus si trasmette per via aerobica e quindi bisogna stare nelle vicinanze delle persone almeno per 15 minuti in maniera prolungata a una distanza di meno di un metro e quindi c'è tutto un'analisi che viene fatta dai sanitari per capire se si è potenzialmente a rischio. Ma questo è quello che vedremo anche nello sviluppo degli articoli. Partiamo però come sempre facciamo noi, non stravolgiamo la nostra scaletta anche dal calendario e le previsioni del tempo che già vedete alle mie spalle. Allora guardiamo con l'aiuto della grafica il santo del giorno, è sabato 7 marzo, la chiesa osserva due sante, santa perpetua e felicita. Il sole sorgerà, è sorto ormai dalle 6.33, tempo fa dicevamo sorgerà invece adesso è già sorto, 6.33 e tramonterà alle 18.05. Previsioni del tempo, allora guardiamole subito insieme, previsioni per sabato, nuvoloso con diminuzione della copertura nel tardo pomeriggio a cominciare dai settori settentrionali. Le precipitazioni sono date più che altro nella prima parte della giornata, della mattinati brevi piovaschi però nel settore settentrionale ma anche costiero come vedete anche dalla infografica. E poi compare il limite delle nevicate, fiocchi di neve sopra i millimetri, le temperature in generale sono in diminuzione. Per domani cambia l'aspetto della, è la morfologia naturalmente no, della nostra regione dal punto di vista meteorologico, perché almeno nella nostra provincia c'è un sole pieno, leggere velature nel resto della regione, mentre sui rilievi nella parte meridionale della regione, vedete, ricompare la pioggia. Quindi nella prima parte della giornata ci saranno appunto questi deboli piovaschi, però nelle zone appunto interne e meridionali. Permane il limite delle nevicate intorno ai millimetri, le temperature risaliranno di poco. Per lunedì, inizio settimana, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, transito di nubi anche nelle ore centrali della giornata. Come vedete, le precipitazioni però non sono date su nessuna parte della regione, ma come fenomeno particolare ricompare il fenomeno delle giornate, delle gelate notturne e anche nelle prime ore del mattino, nelle zone interne e nei fondovalli. Quindi attenzione, soprattutto per chi parte per la giornata di lavoro nelle prime ore della mattina, ecco, attenzione, da lunedì ci potrebbe essere questa eventualità. Nei giorni successivi della settimana non ci dovrebbero essere fenomeni di particolare rilievo, quindi ci sarà un consolidamento delle temperature e il tempo dovrebbe essere, almeno sulla carta, all'insegna della stabilità. Partiamo subito con i giornali, apriamo con le prime pagine. Vi porto nella pagina di apertura del Corriere Adriatico, che appunto, come fotonotizia, mette quella della Presidente della Carnevalesca, positiva al coronavirus, ma l'apertura è per i medici, medici in prima linea, che alle volte si comuovano anche per le situazioni che devono affrontare. Gnudi del pronto soccorso di Pesaro dice che la situazione è pesante, ma reggeremo turni massacranti, e anche per via del fatto che diversi operatori sanitari sono in quarantena volontaria. Scatta ora la fase 3 dell'emergenza, il sistema sanitario regionale. Chi può ora deve pregare. Guardiamo le altre notizie, perché ci sono diversi aspetti di questa fase, possiamo definire la storica del nostro paese, ma non solo, tutta nuova, tutta una pagina tutta da scrivere, questa l'incognita, perché l'influenza si conosce, abbiamo i vaccini, sappiamo che cosa è, dove si manifesta, perché qui è tutto nuovo, giorno per giorno. Pazienti a rischio di oncologia, tema trema il reparto, e poi due equipaggi del 118 in quarantena, senza però sostituzioni, e poi lo sport che deve fare i conti appunto con il coronavirus, la Tirreno Adriatica è stata annullata. Andiamo nella pagina d'apertura del resto del Carlino, e qui l'apertura è appunto per la Presidente, che dice ho il virus, ma non mi fa paura, di recente ho avuto contatti con 29 persone, ha fatto un elenco di persone che sono venute a stretto contatto con lei recentemente, che ora saranno vagliate dall'Azur, e qui appunto i medici dicono siamo in trincea, aiutateci, vedete qui il primario Gnudi, intervistato appunto dai giornalisti, ieri eravamo diverse truppe fuori dalla San Salvatore, per questo focus anche insieme al Presidente della Regione. Ospedale rivoluzionato, creati percorsi separati, tra pazienti con il contagio, quelli considerati puliti, e il primario del pronto soccorso dice attrezziamo una quinta rianimazione, la situazione è pesante, ma Burioni, che è noto per non mandarle a dire a nessuno, va contro Ricci, che dice quei proclami sono sbagliati, e dopo vedremo anche il suo pensiero. C'è anche la cronaca, operai in trasferta, no, in realtà svaliggiavano furgoni, a Fermignano sono stati arrestati dai carabinieri dopo una perquisizione in un automezzo, appunto nel loro furgone, che presentava diversa refurtiva. Cannevalesca, la Presidente positiva al virus, dice sto bene, devo rimanere a casa per 15 giorni, non ho paura, non ho idea da chi l'ho preso, qui c'è tutta l'intervista, dove parla un po' di questa vicenda, la famiglia è al sicuro perché il marito è l'estero e il figlio è a Pisa, e quindi loro sono a posto, per cui lo avete sentito anche ieri nell'intervista. Sono contagiata, shock della Presidente, dell'ente Cannevalesca, ma come sempre visto il rapporto con la cittadinanza, sempre molto aperto, lei dice, ho voluto anche dire, non nascondemi per questa vicenda, e quindi l'ho voluto dire, si è ammalata mercoledì scorso, tutto è nato con un po' di tosse, e la febbre che si è sviluppata nel pomeriggio sul Consiglio del Medico è stata al pronto soccorso, e quindi gli è stato fatto il tampone, il risponso è arrivato ieri, e quindi per lei adesso si apre il litter della quarantena in casa per vedere il decorso della malattia. Mi è sembrato giusto, dice lei, informare i cittadini di questo. Sceglie l'auto isolamento, anche Renato Claudio Minardi, per un breve contatto. Pesaro, l'enclave del virus intrincea tutta Marche Nord, in un giorno i casi positivi sono passati da 100 a 126, i ricoveri sono 61, e la direttrice generale Capalbo dice c'è bisogno di posti, letto e medici in rianimazione. Anche il presidente Ceriscioli, ieri presente, insieme ai vertici di Marche Nord, dal sindaco Ricci, all'ospedale per una visita nella terapia intensiva, ha fatto appunto un sopralluogo in questi reparti. l'ospedale di Pesaro e Fano è un modello che può fare da apripista per la regione. Anche il medico appunto si commuove dal titolo della prima pagina, Umberto Gnudi, responsabile della miliardecina d'urgenza e pronto soccorso di Marche Nord a Pesaro, dice la situazione è pesante, ma reggeremo. Chi può adesso deve pregare perché tutto vada nel modo migliore. Positivi due pazienti oncologici e ora quindi il reparto rischia una quarantena totale, il primario dice siamo veramente in trincea e come risposta si apre la quinta rianimazione nella struttura. In quarantena anche due equipaggi del 118 sono veramente loro la prima linea, la prima linea che va all'assalto, passatemi questo concetto e veramente si confrontano con purtroppo i pazienti e alle volte le precauzioni non bastano. Aspettiamo solo che i colleghi rientrino, turni di 12 ore più uno extra la settimana, dice indossiamo i dispositivi solo nei casi accertati e quindi quando noi arriviamo sul posto, situazioni imprevedibili e capita persino, dicono proprio loro, che le persone soccorso nascondano la febbre quasi per timore di essere tacciati come dei malati, però questo non fa sicuramente bene a chi gli presta soccorso perché non ha modo di prendere le giuste precauzioni. Burioni bacchetta il sindaco, Pesaro si deve fermare, questo è il pensiero del noto virologo, anche all'aria aperta dice lui, dice ovunque ci si saluta, debita a distanza, l'affetto si manifesta con un sorriso, dice perché questa affermazione, il coronista del Carino gli chiede, dice questo virus si trasmette con i rapporti umani per cui è indispensabile che tutti limitino al massimo qualunque occasione che li porti a una distanza inferiore da un metro dall'altro. Quindi cosa dobbiamo fare? Burioni dice basta feste, basta ritrovi, basta andare in palestra, basta tutto quello che è una possibilità di contatto ravvicinato. In Cina sono riusciti solo in questo modo a rallentare la diffusione del contagio. San Salvatore è rivoluzionato, si è parlato ieri appunto di come si sono organizzati a Marche Nord, divisi e percorsi tra sporchi e puliti, reparti ricollocati e ricavata anche in una corsia di 14 letti per i contagiati, quindi si cerca in tutti i modi di affrontare nel secondo appunto quanto è possibile fare al massimo l'emergenza e soprattutto l'accesso, l'arrivo di nuovi pazienti creando altri posti di terapia intensiva ma soprattutto anche percorsi dedicati. Il San Salvatore è rivoluzionato nella sua struttura interna ma arrivano anche le buone notizie, la famiglia di Pian di Mileto è fuori dalla quarantena, l'opera di 50 anni in realtà non era mai stato contagiato, era stato dato per positivo ma forse c'era stato un misunderstanding, un cortocircuito nelle informazioni. Ieri è scaduto il periodo di 14 giorni e insomma tutta la famiglia si sente ovviamente sollevata. L'uomo era stato erroneamente giudicato positivo da un'unità di crisi del riminese. I risvolti di questa vicenda, i risvolti che ci porteremo avanti dal punto di vista anche economico, la crisi che sicuramente avrà una coda lunga e che presto comunque si farà sentire, non a caso il governo centrale ha stanziato miliardi di euro per fronteggiare questa situazione perché colazione a distanza, ristoranti semi vuoti, clienti sempre più rari e gli incassi sono in netto calo. Qui la testimonianza di diversi operatori commerciali, vedete queste sono un po' le condizioni alle quali si assiste per chi va nei locali commercio e turismo in ginocchio. Poi salteranno anche le materie prime, insomma è una fotografia che arriva da Ancona, dall'ente camerale, preoccupante. Le marche sono a meno 238 milioni di valore aggiunto, quindi si cerca anche sostegno dal credito, insomma si stanno mettendo in campo anche contromisure su questo aspetto. Allora diamo anche una notizia che riguarda il sindaco Bonci di Fossombrone che gode di ottima salute, salute, girano bufale sulla mia salute, ma io sto benissimo, Bonci rassicura i suoi concittadini, sono pronto anche a denunciare i corvi perché veramente, come si dice, la mamma degli stupi è sempre incinta e quindi su Facebook le fake news fioccano. Ristorazione si reinventa, si tenta di trovare delle soluzioni per ammortizzare, attutire i danni con anche le consegne a domicilio. Però il Paso dice giustamente è una soluzione non praticabile per tutti i piccoli locali come fanno a portare avanti questa metodica e se questo è un ristorante più strutturato sicuramente lo può fare. Tra i tanti risvolti di questa vicenda c'è anche quella delle donazioni, donazioni di sangue, forza c'è bisogno di sangue, un appello perché questa è una emergenza, nelle emergenze ancora non lo è, però sospese per 14 giorni le donazioni da parte di chi rientra dalla Cino nelle zone rosse del nord Italia, Spadini dice avviato il pre-triage con la misurazione della temperatura corporea, ma di sangue ce n'è comunque sempre bisogno e insomma chi può quindi negli ambienti sicuri, appunto quelli della ematologia vada a donare. La Tireno Adriatico, appunto la corsa storica che purtroppo mette il piede a terra, stacca i pedali e si ferma, nullata la corsa a tappe in programma da mercoledì prossimo fino al 17, niente via libera, gli organizzatori creano altre date e questo perché al passaggio dei ciclisti, ahimè purtroppo i tifosi, migliaia e migliaia di tifosi accalcati a distanza ravvicinata anche per diverso tempo sono appunto la situazione ideale perché il virus si propaghi, quindi si evita tutto questo. C'è anche un po' di cronaca e un po' di politica nei quotidiani, oggi si parla appunto in maniera insomma così di sponda delle elezioni regionali, ci sono gli alleati del centro-sinistra che adesso devono esprimersi sulla candidatura di Mangialardi e cadono alcuni veti sul candidato del PD, quindi è una scelta valida, il centro-sinistra si sta ricompattando su Mangialardi capendo che è sicuramente il candidato più forte esprimibile dalla coalizione in questo momento, però articolo 1 ribadisce l'appoggio al civico quindi a Longhi, ma però è in una fase di riflessione, quindi insomma vediamo se articolo 1 porterà avanti la candidatura di Longhi come sua idea preferenziale. Poi da Pesaro i cantieri insomma nel cavalcavia, cavalcaferrovia più sicuro, cavalcaferrovia appunto questo che passa di fianco alla stazione ferroviaria, risposta bipartisan al comune da parte di Baiocchi, prima c'è Pesaro e Mattioli del PD. Soli destinati alle infrastrutture e naturalmente ci sono anche queste cose da portare avanti, non si può congelare tutto un paese, quello che si può portare avanti si porta. Appunto la cronaca, vi dicevo, c'è anche, riporta questa notizia, il Corriere Adriatico, droga tagliata con i psicofarmaci, cresce l'allarme tra gli operatori, soccorsi diversi, giovani in overdose, il monitoraggio del Dipartimento di Dipendenze Patologiche lancia questo allarme per queste dosi di eroina tagliata con farmaci che circolano nel cosiddetto mercato grigio e che chiaramente fanno grossi danni. L'Emoticon dà l'ok alla Regione, tutti centrati gli obiettivi del 2019, attività produttive al sociale, uffici e giunta si promuovono con il piano delle performance, quindi valutazioni anche di obiettività raggiunte per quello che riguarda la loro operatività nelle stanze di Palazzo Raffaello a Dancona. Nasce un bosco per il futuro, siamo a Monbaroccio, 60 piantine per la didattica, l'iniziativa del Comitato per la difesa dei diritti e il gruppo social, ultima spiaggia che vedete insomma tutti qua belli e contenti dopo aver fatto questa bella piantumazione, 60 piantine per creare un nuovo bosco. Apriamo le pagine di Fano, rinasce il quartiere di Gimarra, villette completate, c'è anche la strada, sopra luogo ieri della giunta nel cantiere, in conto quasi 900 mila euro di opere di urbanizzazione per una nuova faccia del quartiere della Gimarra. Spese per i figli e bus scolastico, aiutate dal comune, 90 famiglie, welfare di comunità che interviene, appunto distribuiti dai servizi sociali, 67 mila euro di contributi erogati dalla Regione Marche che hanno aiutato sicuramente le famiglie ad affrontare meglio le spese dovute all'apprendimento dei loro figli. Anche il resto del Carlino rappresenta i lavori di Gimarra, Gimarra che risorge, decollano i lavori, è una fase di esecuzione, la prima delle opere di urbanizzazione che presto saranno terminate la settimana prossima e ieri c'è stata appunto la presentazione di questa nuova opera. Si riparla di Corinaldo, c'è stata la prima udienza al processo dove sono imputati questi sei giovanissimi della Bergamasca ritenuti i responsabili del fuggifuggi che ha creato la calca purtroppo mortale. Unico parente presente alla prima udienza dei familiari coinvolti in questa tragedia è il fratello della Benni, Francesco Vitali, che dice appunto, che vedete in questa bella foto insieme alla sorella, in uno dei tanti momenti felici, dice Benni la tua famiglia non si arrenderà mai e quindi saremo in prima linea per avere la giustizia che meritiamo. Queste le parole, lo sfogo di Francesco Vitali, il fratello di Benni. Val Metauro, il ponte della battaglia del Metauro, monumento storico da valorizzare e quindi tutti abbiamo capito qual è, è questo qui, adesso in questa foto d'epoca vedete addirittura dell'inaugurazione nel 1925 finita la seconda guerra mondiale, furono rimossi i segni incisi dal regime fascista. Costruito nel punto 25 ne esalta il valore, l'associazione Orti di Mare di Metaurelia di questo monumento storico della città. Dalla Val Cesano andiamo a Marotta, l'arte del mosaico per la pace, chiaroscuro ospite in Tunisia, l'associazione di Marotta invitata al simposio di Sous, confronto tra altri 55 artisti da tutto il mondo per questa magica arte che ha regalato veramente, ha attraversato i secoli e anche oggi mostra segni di grande vitalità. Vedete qui alcune opere presentate a questo evento. La cronaca, vi dicevo, eccola qua, da Urbino arrivano i carabinieri a Fermignano che arrestano nella notte per furto dei sospettati che procedevano a fari spenti a bassa velocità con un'auto, la fermano e trovano tutto sto po' po' di roba. Vedete che cosa avevano? Si sono giustificati dicendo che erano degli operai ma hanno molti precedenti e i carabinieri non sono certo caduti nelle loro fandonie. Da Urbino per quanto riguarda il resto del Carlino si parla di università, l'Ateneo entra nelle classifiche degli Emirati, l'università ora è nella lista delle migliori università al mondo, un importante riconoscimento appunto dagli Emirati Arabi. Ancora nelle ultime pagine vi faccio vedere quelle di Senigallia, pista ciclabiche, si parla di infrastrutture, no al senso unico e il comitato che torna all'attacco dell'amministrazione pubblica che ha bloccato e bocciato altre soluzioni. Quindi sulla ciclovia adriatica ci sono pareri discordi a riguardo. L'ultima pagina che vi faccio vedere, sempre da Senigallia, per il Corriere Adriatico, calcoli sbagliati, errori nei bollettini, si parla appunto delle bollette pesanti, ecco i rimborsi beffati, ecco i rimborsi ai beffati delle tasse. Leggiamo bene, calcoli sbagliati, errori nei bollettini, ecco i rimborsi ai beffati delle tasse. Ecco adesso l'abbiamo letto bene, stanziati ben 25 mila euro per chi ha versato più del dovuto, un 79enne risultava addirittura nato in Svizzera. Bene, e questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere per questa ultima rassegna stampa della settimana, questa sera 7 per occhio, il magazine che racchiude un po' tutte le notizie della settimana, ma anche aggiornamenti per quanto riguarda il coronavirus e i bollettini della Regione Marche. Questo è quanto, non mi rimane che augurarvi un buon fine settimana e arrivederci alla settimana prossima.